La chioma di Berenice è una delle 88 costellazioni moderne. Si trova a nord-est della costellazione del Leone ed è una chioma di stelle di quarta e quinta magnitudine fisicamente legate fra loro. Da marzo ad agosto è ben visibile nel cielo serale, sia nell'emisfero boreale sia nell'emisfero australe. Era già conosciuta dagli antichi greci, che la consideravano una parte della costellazione del Leone. Eratostine fu il primo a citarla nei suoi studi, identificandola come la chioma della regina Berenice II d'Egitto. Successivamente Tolomeo la inserì nel suo Almagesto del 150 d.C. Grazie agli studi di Mercator divenne una costellazione ufficiale nel 1551 e la si può ritrovare anche nel catalogo stellare di Tico Brache. Idino, uno scrittore romano ed edito agli studi di astronomia, nella sua poetica astronomica racconta un mito riguardante l'origine del nome della costellazione. Berenice visse nel III secolo a.C. Aveva sposato suo fratello, il re d'Egitto Tolomeo III Vergete, che pochi giorni dopo le nozze emosse guerra all'Asia. Berenice fece voto di tagliarsi i capelli, in segno di gratitudine verso gli dèi se il marito fosse tornato vittorioso. Quando Tolomeo tornò, Berenice mantenne la promessa e deposì i suoi capelli nel tempio della città. Il giorno dopo le ciocche intrecciate erano scomparse e proprio nei giorni successivi un astronomo di Alessandria, Conone di Samo, indicò al gruppo di stelle vicino alla coda del leone come i capelli di Berenice che erano andati ad unirsi alla costellazione. Il mito sarà poi ripreso anche dal poeta latino Catullo, che sottolinea come il sacrificio della ciocca agli dèi non avesse effettivamente giovato alla regina, tanto da definire la costellazione malinconica. Le stelle sembrano essere rivolte verso la terra, quasi in ricordo di Berenice. Alla morte del marito, la donna fu uccisa per ordine del ministro reale e nel periodo di assenza del faraone resse il popolo con tanta competenza da essere deificata e ricordata anche negli anni successivi. Gli antichi greci riconoscevano e delineavano le costellazioni tramite la produzione di miti e leggende, nei quali erano raccontate le origini dei nomi delle stelle. Nella visione greca, le stelle e i cinque pianeti allora conosciuti erano in grado di generare, tramite fluvi, una forte influenza sulla terra e sui suoi abitanti. È in questo periodo che il ruolo dei caldei, gli astrologi greci, assume una grande importanza. Analizzando le influenze astrali, erano in grado di interpretare i segnali inviati dalle stelle. Questa pratica divenne presto molto comune e diede ampio credito all'astrologia, rafforzando le credenze popolari. Venga avanti, stregone! Io so tutto, io vedo tutto grazie alla mia ampia conoscenza dell'astrologia. Voi cosa credete nel valore di divino? Eh eh, in realtà dipende tutto dalle stelle. E voi siete tutti condannati a una morte atroce, inceneriti dal sole. Mu ha 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 ha! L'accendiamo? Et voilà! L'ampè! Il prossimo, il signor Galilei. Buongiorno, vostro onore. Oggi vi dimostrerò perché la Terra gira intorno al sole e non viceversa. Va bene, dai. Almeno è gentile, non come quello di prima. Anche se il signor Aristotele era molto capace per la sua epoca, infatti non metto in dubbio l'esistenza delle sfere celesti, ma l'ordine dei pianeti. Aristotele non aveva gli strumenti di ingegneria che ho io. Infatti, guardando verso il sole, ho scoperto che è la Terra che gira intorno al sole e non il contrario. A noi invece sembra il contrario, perché è come se fossimo su un veliero in mezzo al mare, dove per noi tutto sembra essere fermo, ma in realtà è in movimento. E allora mi dica, perché nella Bibbia c'è scritto che Giosuè fermò il sole? Perché la Bibbia deve essere chiara alle genti di tutte le epoche. E poi la natura è anche essa creazione di Dio. E Dio non può sbagliare, quindi se è caso, è l'uomo che ha sbagliato a interpretare il testo. Forse io ti credo. Ma il mio boia no. Quindi, preferisci il rogo o la biura? La biura? Va bene. Allora se hai scelto la biura, è libero di andare. Arrivederci. Eppur si muove. Buonasera e benvenuti ad Astro Tg, il Tg più stellare che ci sia. Io e i miei colleghi vi porteremo in quest'ultima tappa del nostro viaggio stellare e vi faremo comprendere come si è evoluta nel tempo la conoscenza sulle stelle e sulla loro vita. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo dal dire che cos'è una stella. Le vediamo brillare nel cielo nelle notti più serene. Ed esso infatti sono corpi celesti che brillano di luce propria nati dalle nebulose, grandi accumuli di polveri finissimi e di gas freddi in movimento, in cui si formano aree di maggiore densità. È proprio lì che inizia una fase di contrazione che, se supera un certo limite, porterà alla generazione di una protostella, la quale, riscaldandosi sempre più, darà vita a reazioni termonucleari che rilasceranno una grande quantità di energia, producendo così una stella vera e propria. Da questo momento la stella si troverà in una condizione di equilibrio. Infatti l'energia liberata tenderà a far espandere la materia, ma sarà bilanciata dalla forza di attrazione che invece la comprime. Questa condizione durerà fin quando la stella avrà idrogeno da consumare. Solo allora essa si avvierà verso la sua fine, che varia in base alla tipologia di stella con cui abbiamo a che fare. Infatti, aumentata la temperatura della stella per via di nuove reazioni termonucleari, la sterra raggiunge un nuovo equilibrio diventando una gigante rossa e da questo momento il suo destino dipenderà unicamente dalla sua massa. Ma ora lascio la parola al mio collega Vittorio. Buongiorno, sono Vittorio di AstroTG e vi parlerò delle varie stelle e dei loro diversi destini. Iniziamo col distinguere diversi tipi di stelle in base alla luminosità, alla temperatura superficiale, dimensione e alla massa. E' proprio quest'ultimo elemento ad essere determinante per la loro fine. Se una stella ha una massa iniziale inferiore al Sole, questa collasserà per poi diventare una nanna bianca, una sfera densa e calda che si raffredda lentamente. Se la stella ha massa pari a quella del Sole, questa avrà due possibilità di evolversi. Potrà perdere gli strati gassosi superficiali diventando una nebulosa planetaria, oppure esplodere in una nova. Entrambe finiranno però col diventare una nanna bianca. Le stelle, che invece hanno massa fino a 10 volte superiore a quella del Sole, esploderanno violentamente in supernove e il materiale rimasto diventerà una stella di neutroni, detta anche PULSTAR. Infine, ci sono le stelle, con masse maggiore più di una decina di volte rispetto a quella del Sole. In questo caso, della materia rimasta dall'esplosione della supernova, si formerà un buco nero, fenomeno che ancora oggi ci è non del tutto noto. E per oggi il nostro viaggio si conclude qui. Vi ricordo però che vi aspettiamo per il nostro appuntamento verso la scoperta della spazio, ogni sera alle 20.30. Grazie per l'attenzione e linee alla rete! Grazie per l'attenzione e linee alla rete!